Decine di volti silenziosi senza nome ci accolgono all'ingresso del magazzino 18. Sono le foto di istriani, fiumani, dalmati trovate tra le masserizie degli esuli e l'inizio delle visite guidate promosse dall'IRCI nel magazzino del Porto Vecchio. Qui siamo nel cuore del magazzino 18 dove ci sono le masserizie, in particolare le sedie. Sì, è vero, siamo forse nell'anima delle masserizie perché la sedia è quello che accompagna la vita di un uomo e che quindi può avere e può offrire più proprio il senso dell'esistere, dell'esistere come essere umano. Sulla sedia ci si siede al mattino, all'ora di pranzo, all'ora di cena, quando si è a casa. Accanto alla storia del lunghissimo esodo, sedie, piatti e armadi ci raccontano anche la vita difficilissima nei campi profughi. La signora Fiore Filippaz a Padriciano perse la sorellina di un anno, Marinella, morta di freddo. La bambina è morta di freddo. Febbraio del 56, due mesi dopo che siamo venuti via da casa. Come si viveva nel campo profughi? Nel campo profughi il nemico più grande era l'inverno perché pur vivendo in una baracca, la bella stagione, i bambini stavano fuori e in qualche modo si sopravviveva. Centinaia le prenotazioni, tanto che gli organizzatori hanno dovuto prolungare anche alla prossima settimana l'apertura straordinaria dell'edificio, grazie anche alla disponibilità dell'autorità portuale. In fila anziani che magari il dramma dell'esodo l'hanno vissuto in prima persona e giovani che vogliono conoscere la storia, in qualche caso ispirati dallo spettacolo di Simone Cristicchi. Credo che chiunque vedendo questo cumulo di sedie possa rimanere pesantemente colpito perché questo groviglio è un groviglio fermo, immobile eppure dà la sensazione di un enorme movimento appunto proprio come se ci fosse una vita, una vita implicita nelle cose.